A tutto c'è un rimedio, meno che alla burocrazia e alla morte. La citazione, neanche molto originale, torna alla memoria rispetto alla condizione dei disabili gravi siciliani, che l'attore Piff ha avuto il merito di far entrare nella coscienza e nel moto di indignazione di tutti un anno fa, nel famoso duro scontro con l'allora presidente Crocetta. Lei dovrà venire subito perché noi siamo incazzati! L'emergenza è anche qua, perché è da anni che è in questa situazione. Da allora sono state approvate leggi e delibere di giunta, norme in finanziaria e stanziamenti di soldi a sufficienza, 272 milioni per un anno, come un orgoglio rivendica Musumeci che li ha incrementati. Ma la burocrazia ha le sue leggi e i suoi tempi. E così dal 30 aprile i soldi vivono la loro surreale condizione del tempo tecnico. Un tempo in cui ci sono, ma i legittimi beneficiari non possono vederli né toccarli. Perfino il governo regionale, che di questa burocrazia è la spalla ed anche il suo dante causa, ha dovuto lamentarsene. Razza ha fatto presente che i soldi dal 21 giugno sono sul conto dell'Asp, che quindi devono pagare. Ne abbiamo chiesto conto al commissario dell'azienda Iblea. Riguardo invece i soldi e i finanziamenti per i disabili gravi, a che punto siamo? La comunicazione è arrivata tre o quattro giorni fa, cinque giorni fa, il giorno 28 se non ricordo male, e tutti i distretti stanno predisponendo agli atti per la liquidazione. Hanno avuto anche una corsia prioritaria per la liquidazione, i tempi tecnici, perché noi ribadiamo che siamo una pubblica amministrazione, per cui dobbiamo anche rispettare delle regole. Grazie. 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 Grazie.